Cos'è successo al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto? L'ennesimo pugno in faccia ad un'infermiera, una collega a cui rivolgo come ordine di Arezzo e della Toscana tutti i miei pensieri di buona guarigione perché è importante avere sicurezza, sicurezza sul luogo di lavoro. Un'indagine di INAIL ci dice che ci sono un caso ogni tre ore e mezzo negli ospedali italiani fino ad arrivare ai 2500 casi l'anno. Questo è inaccettabile. La legge 113 del 2020 ci viene in soccorso, ci viene in soccorso in maniera di inasprimento delle pene sia dal punto di vista sanzionatorio sia dal punto di vista formativo e di monitoraggio. Però non è sufficiente, c'è bisogno di avere maggior tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo caso proprio il pronto soccorso e il sistema di emergenza e urgenza. Quali sono gli asset sanitari, gli ambiti sanitari dove accadono di più queste aggressioni? Sicuramente il sistema di emergenza e urgenza è maggiormente colpito ma non bisogna neanche perdere il focus anche sul territorio. Infatti gli infermieri, i medici che sono a casa, che vanno a casa proprio dei pazienti veri c'è bisogno anche di tutelarli in qualche modo. Si sta pensando alla tecnologia, la tecnologia che viene in supporto degli operatori sanitari e che possa in qualche modo gestire il caso nell'immediato dando degli alert, dando delle situazioni in cui il collega non si sente solo anche stando da solo a casa di persone che magari in quel momento sono malintenzionate. Un fenomeno che esisteva a quanto pare, lo dicono insomma, i numeri ma che era rimasto un po' sommerzo. A Rezzo su questo c'è un primato. Nel 2019 abbiamo lanciato la campagna social rispetto a chi ti aiuta con il primo videospot per accendere i riflettori su questo problema. Per fortuna la politica ci è venuta dietro. Ci è venuta dietro cercando di trovare delle soluzioni legislative. La legge 113 del 2020 è appunto una soluzione ma non può essere la soluzione il punto d'arrivo di questo problema. Avremo bisogno però di intraprendere una campagna mediatica e sicuramente avremo bisogno della collaborazione di tutti quanti. Quando si arriva al pronto soccorso si ha davanti il personale che è formato a gestire chiaramente l'evento critico di quel momento. È necessario però affidarsi a queste persone. È chiaro che tante situazioni come possono essere la carenza di personale, possono essere alcune situazioni critiche o codici rossi che stanno gestendo in quel momento non possono dare priorità a tante altre situazioni. Quindi è bene attendere e cercare di capire il motivo per cui non c'è una risposta immediata. Ecco, questo sarà il prossimo passo, quello di cercare di arrivare a tutelare il personale cercando anche di far comprendere e far capire alle persone che non tutti sono lì senza far nulla ma anzi stanno gestendo sicuramente qualche situazione più grave. Anche perché se no passare dai roi come eravate nel 2020 a prendere un pugno in faccia il passo è davvero troppo breve. Ecco, quella collega lì che lavora a pronto soccorso sicuramente avrà lavorato anche nel momento più drammatico di questa pandemia e quindi credo che non sia il giusto riconoscimento che un cittadino possa fare a un personale sanitario. Grazie. 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 Grazie.